Giornata di sole pieno. Sono dei temporali evidentemente sul mare. Ed ecco, abbiamo raggiunto Gino Jason dalla possente muscolatura tale quale a sei anni fa. Ho capito, per pescare mi hanno rotto il cazzo. E non rompere tanto i coglioni perchè questa è una zona che dice temporale anche su Porto Recanati oltre. Qui siamo alla foccia del musone. Quel solito puzzo. Stessa che c'è chi lo naviga in un musone. Io sinceramente... Al MIA ci sta raggiungendo. Questo è il punto. Non subito, poco dopo vedi dove non ci sono gli scogli, ti infili in mezzo a tutte quelle cose e le segui. Sì, solo che devi entrare prima tu perchè... Insomma lo vedi. Ma all'inizio ho visto che tagliamo dentro un attimino. Dritto. All'inizio entro io. Poi più avanti. Qui tagli nel mezzo. E' Industries. omos iniziati. Traminoni nel tecidio. Vale. Bene. QuS لو. Tboro l'essio intesa di macch40, T personnelle un privacy super e congraccio asciv REQettsan. Ti esceva allora. E quella la infili tutta. Rallenta perché almeno entriamo insieme. Cioè insieme, uno dietro l'altro, ma vai! Ok. Il tracciato. Perfetto. Come ti ispira. Come si riesce. Diciamo che la parte tosta è finita. Rallenta. Aspetta. Guarda che è molto bassa lì l'acqua. C'è anche qualche spoglio affiorante. Ok. Allora. Ok. preso teso in più a sinistra occhio agli scogli ovviamente vedi com'è bassa qua? siamo all'inizio di Porto del Canale è proprio l'inizio molta fantasia c'è il paese a monte poi c'è quello a mare che aggiunge Porto c'è Recanati e poi c'è Porto Recanati c'è Potenza e c'è Porto Potenza Picena e così via sei troppo avanti io ti sto facendo l'inquadratura semilaterale la mia sono sono l'uomo è è è è è è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Stai più vicino a riva Più a destra Se riesci a navigarmi un attimino sulla destra ti faccio le riprese Grazie a tutti 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 Grazie a tutti